Secondo lei come funziona la Circo Unvesuviano? Meglio non dirlo, ma... Perché i problemi sono tanti? Non funziona per niente, sempre con i ritardi, quindi non... Sono passati già dei mesi, ma questo fatto che i treni per Sorrento non fermino più a Torre del Greco è vergognoso. Vergognoso veramente, non me l'aspettavo proprio questo, è un torto alla città. So che insomma ci sono pochi treni, sempre in ritardo, almeno quelli che prende mio figlio la mattina per andare a lavoro. Sono già mesi che i treni per Sorrento non fermano più a Torre del Greco, che ne pensa di questo? Che praticamente nessuno si occupa del nostro sviluppo del turismo, come minimo. Bisogna ricorrere ai ripari per tutta quella gente che è obbligata, giustamente, al mattino recarsi sui posti di lavoro, studenti, insomma questo via vai. E stiamo male messi. A richieste da fare, al comune, all'azienda della Circo Unvesuviano? Datevi da fare, datevi da fare, non state solo a riscaldare le poltrone. So che ci sono molti disagi, disagi per quanto riguarda i pendolari, gli studenti, quindi non penso che funzioni bene. Non funziona più come una volta? Assolutamente no. Che ne pensi invece del fatto che già da diverso tempo i treni da Iper Sorrento non fermano più a Torre del Greco? Noi del Movimento 5 Stelle combattiamo anche su questa cosa, abbiamo avuto vari incontri con il... Il Lea? Sì, però non siamo ancora divenuti ad una, veramente una soluzione. Ho un ragazzo disabile e quindi ho tante difficoltà, quindi so che state anche delle corse sospese, ripeto non la prendo spesso perché avendo delle difficoltà appunto del gestione del ragazzo disabile, spesso mi sono trovata in difficoltà soprattutto per prendere la circo in Vesuviana, quindi mi auguro a più presto che queste difficoltà siano risolte. Tu sai a che ora arrivi in Vesuviana, non sai mai se c'è il treno, quando passa, quando non passa, se mai raggiungerai la meta e a che ora la raggiungerai. C'è stato un drastico peggioramento rispetto a un tempo? Assolutamente sì, anche perché la mattina è sempre molto molto piena, per cui anche quando arriva il treno non è detto che tu lo possa prendere questo treno, quindi è capitato spesso di rimanere fuori. Che ne pensi invece del fatto che già da tempo, naturalmente non oggi, i treni dai per Sorrento a Torre non fermino più? Vabbè, questa è una piaga praticamente, perché per noi che siamo della zona per andare a Sorrento dobbiamo arrivare a Torre, non si è andata cambiare, prendere un altro treno e arrivare a Sorrento. E' ammissibile che Torre è una città così grande, la quarta città della Campania. E' ammissibile nulla che non funzioni, voglio dire. Siamo in un paese civile dove tutti paghiamo le tasse, quindi di conseguenza credo che sia doveroso che i servizi funzionino. Si parla tanto anche di turismo, ma certamente questo non lo incentiva. E come incentiviamo il turismo se abbiamo difficoltà a far arrivare la gente? Cioè non è pensabile. Il trasporto locale è come se non esistesse. Il trasporto locale è il pulmino della litorania classica che fa o litorania o nazionale, il resto non è pervenuto. Se dico il mio pensiero, potresti mi censura? Io penso che ci vogliono le chigliottine. Questo è il mio pensiero. I mezzi sono vecchi, ha gente cadastrata come le pecore, come le vacche, quello è un altro discorso. Però funziona, in parte funziona. Però i disagi ci sono. Non è un altro discorso.